Allora! Ciao, ciao! Mi ha portato una lettera dove è scritto stai così Se mi piaccio i limiti darò tutto il cuore è arrivato l'ambasciato Se mi piaccio i limiti darò tutto il cuore è arrivato l'ambasciato Bravo! Antonio Galilei! Sentite la campana di Abona e Daniele! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!